Si è conclusa nel complesso di Santo Stefano la prima fase del progetto di recupero della Basilica che consiste in un nuovo impianto di riscaldamento. Di questo e del progetto successivo, quello riguardante l'illuminazione, si è parlato nella conferenza a stampa svoltasi proprio a Santo Stefano nei giorni scorsi, con la partecipazione del legale rappresentante dell'ente Basilica, Monsignor Gianluigi Nuvoli, insieme all'economo fra Francesco Mazzon. Con loro è intervenuto anche Gianluca Galletti, presidente di Emilbanca, donatrice di 100.000 euro alla Basilica per la realizzazione dei lavori. Siamo molto grati a Emilbanca per questo contributo che ci dà e questa opportunità che abbiamo di realizzare un sogno per Santo Stefano, fare sì che diventi sempre di più un luogo accogliente, non solo da un punto di vista fisico, quindi con il calore, soprattutto negli mesi invernali, perché da 8 gradi che c'erano siamo passati a 16, quindi diventa una temperatura accettabile per fare conferenze, ma anche solo per partecipare alla messa, piuttosto che ad incontri di preghiera. Ma allo stesso tempo anche un'illuminazione nuova che consente di vedere, di partecipare e di poter gustare la bellezza di Santo Stefano, quindi sia da un punto di vista celebrativo, sia da un punto di vista partecipativo, ma anche solo proprio per godere delle bellezze che Santo Stefano racchiude e conserva da quasi duemila anni per la città di Bologna e per tutti quelli che vogliono visitare. Grazie a Emilbanca, alla Seragnoli che ha dato un'offerta che ci ha permesso di pagare già la prima parte dei lavori e poi ovviamente chiederemo, anche noi stenderemo la mano, proprio perché Santo Stefano mi sembra che statisticamente sia il complesso più visitato a Bologna dopo San Petronio. Noi siamo una banca strana, non gestiamo solo i soldi dei nostri risparmiatori che ci affidano, ma noi siamo una banca di credito cooperativo, quindi nel nostro statuto abbiamo un doppio fine, quello di amministrare bene chiaramente le risorse che ci vengono affidate, ma dall'altra parte anche di investire quello che ricaviamo dall'attività della banca nella comunità. La Basilica di Santo Stefano rappresenta una parte della comunità bolognese, rappresenta un punto di riferimento per la comunità bolognese, da un punto di vista ecclesiale e religioso, ma anche da un punto di vista monumentale e artistico.